Buonasera, andiamo a vedere i principali argomenti del telegiornale. Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è intervenuto sul dissesto nella città di Reggio Calabria. È sempre la giornata calabrese del governo decreto sanità e fondi per Gioia Tauro. Sulla sanità nel Vibonese il sindaco di Serra San Bruno Luigi Tassone bisogna intervenire sulla tendenza. Contributi alle imprese agricole colpite dal maltempo è stato accorto l'ordine del giorno dell'onorevole Vandaferro per l'innalzamento massimale sugli aiuti. Doppia preferenza il tandem, Oliverio Sculco non si ferma ieri, conferenza stampa alla cittadella regionale a Germaneto. Seconda parte interamente dedicata ai riti pasquali. Questo è altro dopo la pausa. Come dicevamo nei titoli parliamo della giornata che ha visto il Consiglio dei Ministri convocato nella città di Reggio Calabria. Vediamo in merito la visita del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel corso della conferenza stampa per illustrare i contenuti nel decreto speciale sulla sanità calabrese sollecitato dai giornalisti, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte è intervenuto sul rischio dissesto finanziario vissuto tuttora dal Comune di Reggio Calabria. Reggio Calabria è in predissesto finanziario, siamo consapevoli di questa situazione. Ieri il Vice Ministro dell'Economia Castella ha incontrato il Sindaco Falcomatà e hanno iniziato a ipotizzare per prevenire una prospettiva che non sarebbe affatto auspicabile. Il Primo Ministro, pur non sbilanciandosi troppo, ha palesato una serie di possibili provvedimenti per salvare i comuni in predissesto e quindi anche Reggio Calabria. Tra le misure c'è anche una proroga per l'approvazione del bilancio 2019. Viene data la possibilità per i comuni in condizioni simili a Reggio Calabria di apportare una modifica al piano di equilibrio portandolo da 30 a 20 anni. Intanto vediamo la giornata calabrese dei Ministri tra bronzi, decreto e sanità e fondi per Gioia Tauro. Unico speciale ed emergenziale, così il Ministro della Salute Giulia Grillo ha definito il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri riunitosi a Reggio Calabria sulla sanità calabrese, unico perché si tratta di un provvedimento che non sarà applicato a nessun'altra delle regioni italiane, speciale perché prende le mosse dall'assunto che il commissariamento prima e il piano di rientro dal debito poi, negli ultimi dieci anni, non si sono dimostrati sufficientemente efficaci per risollevare le sorti della sanità calabrese. Emergenziale perché tiene conto del disavanzo di gestione par a 168 milioni di euro, dei livelli essenziali di assistenza che con un punteggio di 136 sono ancora molto al di sotto della quota minima accettabile di 160. Risultato che determina il blocco del turnovo del personale sanitario, del commissariamento per infiltrazioni mafiose dell'ASPE di Reggio Calabria, una misura a tempo della durata di 18 mesi e dopo il dodicesimo mese la Regione potrà iniziare ad avviare le procedure di nomina di nuovi manager perché ha chiarito Grillo, vogliamo essere fulmini e non travalicare le nostre prerogative. Un messaggio diretto al Governatore Oliverio, chiamato in causa da Grillo, durante la conferenza stampa con la titolare del di Castello della Salute che ha sottolineato quanto la sanità sia materia concorrente. Il Ministro aggiunto svolge il proprio ruolo e il rispetto della Costituzione. Tre punti cardine del decreto sanità illustrati da Grillo. Verifica straordinaria dai manager ed eventuale nuova nomina, gestione contabile delle aziende sanitarie fallite e poi il capitolo acquisti. Quello della salute è un settore molto sensibile sia negli sprechi che nella criminalità. Tutti gli acquisti dovranno passare da Consimpe e da protocolli di intesa con ANAC. Toccherà ora alla struttura commisteriale guidata da Saverio Cotticelli recepire i superpoteri assegnati loro dal Governo in un clima politico istituzionale di forte tensione tra l'esecutivo e il Governatore Oliverio. E ancora parliamo di sanità. Andiamo nel Vibonese Tassone. Bisogna invertire la tendenza. Negli uffici dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valenzi il comitato di rappresentanza della conferenza dei sindaci accogliendo la loro richiesta ha incontrato le delegazioni dei sindacati CGL Cisle-Guil a guidare la delegazione della CGL Battista Platì e Michele Iannello, la delegazione Cisle Francesco Mingrone, Sergio Pititto e quella della Guil Pasquale Barbalaco. Con il presidente Luigi Tassone, sindaco di Serra San Bruno, erano presenti Raffaele Scaturchio, sindaco di Dasà, e Giulia Russo, sindaco di Ricadi, assente per impegni istituzionali, Antonio Lampasi, sindaco di Monterosso. Al centro dell'incontro la situazione che interessa la sanità del territorio vibonese. Il confronto ha affermato Tassone ha permesso di evidenziare le numerose criticità che impediscono di garantire alla popolazione i livelli essenziali di assistenza e le cui cause sono ancora legate alla gestione commissariare della sanità calabrese che dura ormai da molti anni. I presenti nel rivendicare il diritto alla salute hanno convenuto sulla necessità di avviare una nuova fase di concertazione che rappresenta una netta inversione di tendenza con il passato e permette di garantire un'immediata ripresa della sanità pubblica vibonese. È stata altresì sottolineata l'importanza di vigilare sui tempi e le scadenze relative alla costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valencia. L'obiettivo è quello di promuovere azioni che abbiano al centro del comune interesse il cittadino e i suoi bisogni sociosanitari. In quest'ottica il Presidente ha preso l'impegno di convocare, subito dopo le festività pasquali, la conferenza dei sindaci per decidere le azioni da mettere in campo. Cambiamo argomento. Contributi alle imprese agricole colpite dal maltempo. Ha colto l'ordine del giorno dell'On. Vandaferro per l'innalzamento massimale degli aiuti. Il Governo ha colto un ordine del giorno presentato dal Vice Capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Vandaferro, sul decreto in via di conversione in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale che prevede tra l'altro interventi destinati a migliorare la qualità del latte o vino finanziate attraverso un istituendo fondo. L'ordine del giorno impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire in sede di Unione Europea al fine di modificare i regolamenti che definiscono il limite dei contributi elargibili nel regime del De Minimis del settore agricolo, innalzando il massimale di aiuto concedibile da 25.000 euro a 50.000 euro alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale. Il regime De Minimis ha infatti dimostrato di essere particolarmente efficace in tempi di crisi in quanto permette una reazione veloce per aiutare gli agricoltori a superare emergenze come le carenze temporanee di liquidità. L'innalzamento del limite finanziario, spiega Vandaferro, è un primo passo in tale direzione, ma occorre un ulteriore sforzo e questo sarà una battaglia che Fratelli d'Italia condurrà all'interno del Parlamento europeo, appinché le istituzioni consentono allo Stato di concedere contributi eccezionali alle aziende agricole soprattutto in situazioni di emergenza. Parliamo adesso della doppia preferenza, il tandem Oliverio-Sculco non si ferma. Flora Sculco non si arrende, non si arrende nemmeno il governatore Mario Oliverio e il centrosinistra che nell'ultima seduta del Consiglio regionale si è rivelato minoranza. Sulla doppia preferenza di genere si deve andare avanti senza se e senza ma e questo è il messaggio che è arrivato alla mobilitazione che la capogruppo di Calabria in rete ha organizzato alla cittadella. Beh, intanto non posso negare di aver avvertito una profonda delusione e amarezza per quanto è avvenuto. Tuttavia ritengo che la Calabria non debba a sua volta ritenersi sconfitta per questa bocciatura ma che anzi debba rilanciare. È così grande e diffuso il desiderio dei calabresi, donne e uomini, che ritengono che questa proposta di legge debba essere approvata al Consiglio regionale che non può essere assolutamente disatteso. Ecco perché io ritengo che bisogna intanto rilanciare e tentare, almeno fino a conclusione di questa legislatura, questo lo farò per quanto mi riguarda, tentare di approvare questa proposta di legge. Dunque io riprenderò il percorso che è richiesto nelle commissioni consigliari per poi richiedere ancora una volta la calendarizzazione e la discussione in Consiglio regionale. Ovviamente questo, se io dovessi farlo da sola, intendo il percorso, non avrebbe alcun valore e alcuna forza. Se invece a sostegno di questa iniziativa ci saranno, come oggi ci sono, tantissime donne e uomini calabresi, io penso che noi conquisteremo il risultato sperato. Sì, oggi ho deciso di partecipare a questo evento organizzato dalla consigliera Flora Scurco perché ritengo che sia importante continuare a chiedere il riconoscimento di questo diritto. Quello che è accaduto giorno 15 presso il Consiglio regionale è un atto che veramente ha lasciato tutte le donne calabresi attonite, però nello stesso tempo le ha caricate perché continueremo con forza a chiedere l'adozione della legge doppia preferenza di genere perché non è altro che il riconoscimento di un diritto civile, riconoscere le capacità delle donne calabresi alla pari degli uomini calabresi. Io spero che si voglia riconsiderare questa proposta dell'onore della Scurco che andava esclusivamente nella direzione della rappresentanza delle donne all'interno delle liste, quindi nessuna garanzia come non dovrebbe esserci, come non potrebbe esserci di elezione, ma solo quella proporzione che è già legge dello Stato e che non viene applicata solamente in Calabria e forse in altre due regioni. Nel merito della bocciatura io non entro perché si sono ampiamente espressi i consiglieri regionali durante il Consiglio, quindi ognuno di loro ha manifestato il proprio pensiero e le proprie osservazioni, quindi non posso entrare nel merito delle loro convinzioni, personalmente ritengo che sarebbe stato opportuno assumere la direzione di una legge che è legge comunque dello Stato, una legge nazionale, quindi assumerla anche in Calabria, posto che di fatto le donne già sono rappresentate in tutto il mondo delle professioni, nel mondo del lavoro, in tutti i comparti sociali e quindi non vedo perché non riconoscere anche la possibilità di una percentuale di presenze femminili nelle liste elettorali. Andiamo a Chiaravalle Centrale finanziato il progetto Borghi della Calabria. Anche Chiaravalle Centrale nell'elenco dei comuni ammessi a finanziamento nell'ambito del bando regionale valorizzazione dei Borghi della Calabria. In totale per tutti i comuni calabresi ci sono in ballo 100 milioni di euro di risorse disponibili a valere sul fondo di sviluppo e coesione. Un bando importantissimo, ha commentato il sindaco di Chiaravalle Mimmo Donato. Si vanno a finanziare i progetti mirati di miglioramento dell'aspetto estetico dei luoghi e degli edifici pubblici, anche con annesso recupero e rifunzionalizzazione di edifici e spazi pubblici per la produzione del turismo ecologico, culturale ed enogastronomico. Non ci stiamo muovendo da tempo proprio in questa direzione per inserire la città in un circuito di ospitalità diffusa. Il bando prediligeva i progetti con una forte componente di sperimentazione di modelli innovativi per la gestione delle infrastrutture, favorendo le sinergie con i soggetti private e l'associazionismo. Con questo ulteriore finanziamento, precisato Donato, la nostra amministrazione va già a completare un primo disegno di sviluppo complessivo che rivoluzionerà Chiaravalle. Milioni e milioni di euro di cantieri che andranno a migliorare i servizi e il volto della nostra città. Progetti finanziati grazie al meticoloso lavoro della maggioranza di Minoro di guidare. Presto l'annuncio ufficiale di ulteriori somme in cassa che saranno in gran parte destinati alla viabilità per circa 700 mila euro. Proprio nei giorni scorsi il sindaco aveva descritto in conferenza stampa i risultati fino allora ottenuti. A distanza di poche ore dunque ecco arrivare ulteriori novità positive a partire dal bando per la valorizzazione dei borghi della Calabria. Per un'amministrazione come la nostra che ha ereditato il Comune già in situazione di dissesto era essenziale dare un segnale, una svolta immediata a concluso Donato. E sempre restiamo al Comune di Chiaravalle Centrale. Si comunica che giovedì 25 aprile non sarà effettuato il servizio di raccolta differenziata in quanto giorno festivo. Carta, cartone, multimateriale e vetro potranno essere conferiti venerdì 26 aprile. L'amministrazione comunale si riserva di attivare una propria azione di verifica e di controllo del rispetto delle modalità di raccolte fissate. In caso di violazione saranno applicate le sanzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Si confina nel buon senso civico di tutti e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione o segnalazione in merito, contattando il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale al seguente recapito telefonico 0 967 91 031. Andiamo alla mezzia terme. Sequestrate uove di Pasqua e sorprese contraffatte una denuncia. Ben 192 uova da confezionare e 42 già confezionate sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di la mezzia terme guidata dal tenente colonnello Clemente Crisci. A questi si aggiungono 15.648 giocattoli, pelusci, palloni e federe da cucino da inserire quali sorprese all'interno delle uova di Pasqua. Ulteriori giocattoli esposti per la vendita, raffiguranti personaggi di fantasia o loghi di squadre di calcio per un totale complessivo di 15.882 pezzi. E' stato per questo denunciato un uomo di 42 anni, gestore di fatto di una ditta individuale con sede alla mezzia terme per il reato di contraffazione. Ci spostiamo adesso a Badolato. E' stato inaugurato a Badolato Marina sulla via nazionale di fronte alla banca un punto vendita di frutta, verdure e diversi, l'orto della nazionale. Questo è il nome del negozio di Sergio Tassone, un giovane imprenditore locale. Rispetto a tanti amici ci ha precisato Sergio che per mancanza di lavoro ne ho deciso di emigrare io ho deciso di fare una sfida con me stesso, aprendo questa attività commerciale. Non mi nascondo le difficoltà burocratiche da superare per il rilascio delle varie autorizzazioni e le spese da affrontare per allestire il negozio nel rispetto della normativa di sicurezza e di igiene. Mi auguro che i miei sacrifici saranno ricambiati dai miei clienti. Il negozio ha proseguito Tassone con accanto la sua ragazza. Si caratterizzerà per i prezzi contenuti, la presenza generale di prodotti genuini di prima scelta. Verdure e diversi tipi di altre specialità saranno tutti prodotti coltivati nei poderi dai contadini del territorio senza conservanti. Il negozio si caratterizzerà anche per la professionalità del personale, le genuinità e la freschezza dei vari prodotti. Infatti si potranno acquistare anche le uova di giornata, i formaggi locali, il pane e i biscotti badolatesi. È un ottimo vino. Auguri, Sergio. Ci fermiamo per una breve pausa. Riprendiamo le notizie, parliamo dei riti pasquali e andiamo a Chiaravalle Centrale. Con l'inizio del nuovo millennio si assiste ad un allanguamento della fede. Più volte, dialogando con voi e portando la promoglia alla nostra storia, vi dicevo che c'è stato un calo di presenze nella nostra Chiesa, in modo particolare dal 2000 in poi. Tale concetto è stato ripreso a Papa Benedetto XVI alla giornata mondiale dei giorni di Colonia nel 2005, quando diceva che l'educatore alla fede non deve proclamare le proprie idee, bensì vincolare costantemente, se spesso, nella Chiesa all'obbedienza verso la parola di Dio. Grazie a tutti. 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 Buon appetito del Giovedì Santo ci spostiamo a Davoli con il giovedime santo si conclude la quaresima e inizia il Triduo pasquale ossia i tre giorni nei quali si celebrano la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Durante la celebrazione della Santa Messa promedipiana in una affolatissima chiesa i fedeli hanno assistito alla lavanda dei piedi rappresentata oltre che dal giovane parro come panni di Gesù da 12 cittadini davolesi che hanno interpretato altrettanti apostoli. Abbiamo chiesto a Don Nicola cosa rappresenta il rito della lavanda dei piedi e cosa è stato istituito successivamente all'ultima cena. L'amore, l'amore per i fratelli e per il prossimo attraverso il segno della lavanda dei piedi e poi il dono anche del sacerdozio. Questo sacerdote che dovunque si trova, cerca di dare conforto, speranza, gioia, la parola di Dio ma soprattutto la grazia. E questi sono i segni tangibili di questo amore infinito di Dio. È vero, Gesù non lo possiamo vedere fisicamente perché ora lui si trova nel cielo, però attraverso i sacerdoti, attraverso un fratello e una sorella che ama con cuore buono e generoso e che ha questo amore anche nel lavare i piedi del prossimo. Pensiamo a tutte quelle opere di carità che vengono veramente dal cuore di Dio e anche attraverso la celebrazione eucaristica il Signore può donare grande forza a tutti quanti. Giustamente oggi l'uomo si è allontanato e allontanandosi da Dio questo amore, l'amore per l'eucaristia e l'amore anche per il servizio è venuto meno. Però finché sulla terra ci sarà anche una persona soltanto che crede nel sacerdote, che crede nell'amore, che crede nell'eucaristia, questo amore sarà eterno. Lei stasera ha fatto un appello ai suoi parrocchiani di rispettare il silenzio e soprattutto di tornare ai veri valori della vita. Perché questo appello? Perché il mondo oggi cerca di distrarci, ci invita al divertimento, che sono anche cose belle. Il cristiano deve anche divertirsi, però c'è una ostentazione del divertimento, della gioia, del non soffrire che porta poi all'uomo, quando incontra veramente la sofferenza, a cadere in crisi. Allora il Signore, come ci ha scritto anche l'Arcivesco nella sua bellissima lettera a noi sacerdoti, il Signore si è proprio letteralmente spremuto fino alla fine, ha donato il suo corpo e il suo sangue. Non possiamo in un momento così ridere, scherzare, come se nulla fosse. Sì, è vero, c'è l'aspetto della risurrezione, ma come dice anche il libro del Quelle, ci sono dei momenti per riflettere, dei momenti per gioire. L'eterna gioia, che porta poi molte volte anche quella schizofrenia, o all'eterna tristezza, sono due eccessi che l'uomo rischia. Allora, questi tre giorni di preghiera servono a riflettere chi è morto per me. E giustamente, poiché lui crede tanto in questo, ancora oggi, lui domani morirà per noi, è giusto che noi lo rispettiamo come noi vogliamo essere rispettati. E sempre vi ricordiamo subito dopo il DG uno speciale sull'evento. Ed ora chiudiamo con Staletti, il servizio di Maria Caterina Sanzo. Molto partecipata alla celebrazione della messa in cena domini a Staletti, con il rito della lavanda dei piedi preseduto dall'arciprete Don Roberto Corapi. Tantissimi giovani presenti, sempre coinvolti con grande entusiasmo nelle attività parrocchiali. Siamo concentrati sul dono d'amore che il Signore ci ha fatto, ha ribadito Don Roberto. L'eucarestia va vissuta in pienezza e nella grazia per risplendere di luce, ha continuato. Non sono mancati i dodici discepoli vestiti con gli abiti d'epoca, che hanno fatto rivivere l'atmosfera del Cenacolo. Gesù desidera ardentemente entrare nella nostra vita per darci tanta gioia, ha affermato Don Roberto nella sua omelia e noi dobbiamo aprire le porte del nostro cuore a lui, fonte della vita. Poi con parole forti ha sottolineato, Staletti ama, ama tutti così come sei, con le tue debolezze, con i tuoi limiti, con le tue cadute. Ama con lo stesso amore di Dio da mandare il suo figlio per la nostra salvezza. Infine il rito della lavanda dei piedi, ovvero il servizio che diventa dono. Tutti dobbiamo essere servitori, gli uni degli altri lavandoci i piedi sempre, ha spiegato il parroco. Alla fine della celebrazione Don Roberto ha invitati tutti a pregare per i sacerdoti che siano al servizio del popolo di Dio, tra gioie, sofferenze, gratificazioni e delusioni, ma sempre con la certezza di essere uniti a colui che ci ha chiamati ad avere un amore totale ed indiviso per tutti. Sì, un momento davvero solenne con l'inizio di un triduo meraviglioso perché c'è stata la partecipazione di tutta la comunità, c'è stata la partecipazione dei giovani che sono il motore di queste manifestazioni e di queste tradizioni. Un momento solenne per aprire questi giorni di passione di nostro Signore Gesù Cristo. Stasera tutti nel Cenacolo, il dono dell'Eucarestia, ho pregato per i sacerdoti e con i discepoli nella lavanda dei piedi. Ecco, siamo rimasti proprio uniti nella meditazione del Cenacolo per stare uniti a Cristo. Questa è la cosa bella. Rimanere con Cristo non soltanto oggi nel Cenacolo, nel dono eucaristico, lui che diventa per noi pane spezzato, ma anche domani, domani sotto la croce durante il tragitto che ci porta al Calvario. Un finale molto emozionante. Sì, un finale molto bello perché c'è stata la riposizione del Santissimo Sacramento con tutti i discepoli attraverso gli abiti d'epoca, ma poi ecco la cosa meravigliosa è il Santissimo Sacramento Gesù vivo e vero nelle mani del sacerdote per deporlo in quell'altare dove rimarrà esposto tutta la notte. Ci saranno i cosiddetti, come venivano anticamente chiamati, i cosiddetti sepolcri, dove noi faremo stasera una prima meditazione qui nella Chiesa Matrice in parrocchi. La seconda al Calvario della Chiesa Madre nel centro storico e poi il terzo momento al convento di San Gregorio e lì con una croce di pane spezzeremo il pane. E proprio per esprimere la condivisione. Gesù che si dona a noi e noi ci dobbiamo donare agli altri e in modo speciale con quel dono dell'amore e quel dono del servizio. Io stasera l'ho detto, ecco mi sono rivolto a tutta la comunità. Era presente il sindaco Alfonso Mercurio, l'amministratore, il vice sindaco Mirarchi. Quindi c'erano tutti, erano tutti lì, presenti insieme a noi perché comunità civile e religiose cammini insieme e possa dare una linea, una linea guida che è quella del servizio. Il servizio per lavarci i piedi gli uni gli altri. In attesa dell'emozionante la chiamata della Madonna. La chiamata della Madonna è un momento davvero molto emozionante che palpita già il mio cuore nel pensare ai momenti della chiamata della Madonna. Il momento della croce, il momento dell'ecceomo e il momento del crocifisso con la chiamata di Maria. Ecco la Maria che viene portata dai giovani entra nella nostra chiesa con l'abito di lutto addolorata dove io poi ecco in questo venerdì santo affiderò tutte le famiglie ma in modo speciale tutte le mamme del mondo affinché davvero attraverso la Beata Vergine Maria possano adorare il Cristo Signore perché il Cristo è la nostra salvezza. Gesù è venuto per noi, è venuto per tutti e noi lo dobbiamo accogliere nel nostro cuore per essere veramente felici. E nei prossimi giorni andrà in onda uno speciale sull'evento. Con questo è veramente tutto. A me non resta che salutarvi, rinnovarvi l'appuntamento alle prossime edizioni. Buonasera. Grazie a tutti.